Va bene, cominciamo! Ma perché non vieni? Ehi, signorine! Ciao! Ehi! Ah, Katie! Katie? Aspetta, aspetta, fa ciao, Katie! Ci riprende! Christy, vuoi dire ciao? E dai! Andiamo, fa un piccolo saluto, Christy! Sta arrivando! Di quello che è successo da piccole, io non ricordo niente. Qualunque cosa fosse, si nutriva del terrore. Più gli davamo attenzione, più aumentava. Ok, ora è accesa. Ti ricordi le regole? Sì, direbbe di meglio tre volte. D'accordo, spengo le luci. Sei pronta? Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Io ho paura. Katie! Smettila! Scusami! Ma non è divertente! Torn, come via! Scusami! Scusami! истор. Scusami! Grazie a tutti